Il nostro tempo è il singolo che anticipa l'album, è un invito a vivere la vita nel modo migliore, possibilmente non da solo, bisogna essere almeno in due per stare più sereni e tranquilli. Anticipa l'album che uscirà il 21 aprile, si chiama Il Tempo è dalla mia parte. Io gioco molto sulla parola tempo, il tempo che avvolge e ci conduce appunto durante tutta la nostra esistenza e questo è un po' il tema di tutto l'album, che dirvi? Buon ascolto, sentitelo, fatemi sapere, ciao!